ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi leggeremo il volantino cartaceo della lidl con gli utensili della parkside delle uscite comprese fra il 2 e 7 gennaio 2024 quindi il volantino del nuovo anno mettiamolo sul bancone vediamo quello che ci proporranno ma se volete sapere tutto quello che uscirà perché sul cartaceo non è riportato proprio tutto andate a guardare il nuovo video pubblicato nel mio nuovo canale dedicato ai volantini in digitale letti in modo leggermente più veloce rispetto a questi però comunque completi con tutte le uscite in anteprima andate a dare un'occhiata al link che trovate giù e iscrivetevi a quel canale ora cambiamo inquadratura e vediamo quello che troveremo alla lidl dal 2 gennaio 2024 apriamo quindi il volantino a pagina 14 e da martedì 2 gennaio 2024 troveremo i seguenti articoli attenzione perché non saranno di lunedì ma saranno uscite del martedì quindi il primo articolo sarà il trapone a percussione scalpellatore al costo di 69 euro con una potenza di 5 joule e il numero di giri a voto regolabile da 0 fino a 800 al minuto anche il numero di colpi saranno regolabili da 0 fino a 3900 al minuto la capacità di foratura sarà al massimo di 40 mm nel legno 32 mm nel mattone e nel calciastrusso e 13 mm nell'acciaio per quanto riguarda il diametro di foratura accessori in dotazione quindi all'interno della valigetta saranno due scalpelli una punta e uno piatto tre punte di trapano da 6 da 8 e 10 mm il grasso la chiave per poter aprire il vano superiore è una stina di profondità dotato anche di impugnatura regolabile 360 gradi ed è un attrezzo utile come si vede da questa immagine per poter rimuovere per esempio in tonaco piastrelle ma anche fare delle tracce a muro e utilizzarlo in parte anche come un piccolo demolitore alla funzione sia di foratura semplice che di foratura accompagnata dalla percussione oppure di sola percussione la ghiera nella posizione centrale permette anche di regolare la posizione dello scalpello in base alla posizione che ci viene più comoda funziona a corrente elettrica e assorbirà 1550 watt con attacco sds quindi non potrete utilizzare le punte di trapano con il codolo rotondo questo invece è il trapano a colonna nuovo modello quindi la versione più performante da 550 watt a un numero di giri la profondità di perforazione e il piano di foratura regolabili il monitor digitale l'illuminazione integrata e anche il laser a croce per poter centrare la punta di trapano e forare in un punto ben preciso sarà scontato di 20 euro infatti inziché 199 euro costerà 179 euro questo trapano rispetto alle versioni precedenti appunto a prestazioni maggiori ma anche la qualità generale costruttiva e la possibilità di variare velocità senza dover sostituire la posizione delle cinghie nelle puleggie perché è un tipo di variazione continua quindi molto rapido e nel display verrà riportata la velocità che stiamo utilizzando questa invece è la sega circolare quindi la sega per tagli obliqui la troncatrice che costerà 69 euro avrà un numero di giri a vuoto di 5000 al minuto la lunghezza di taglio al massimo di 120 mm e l'impostazione di taglio possono essere sia fissi oppure con scatti intermedi ed è regolabile sia da meno 45 a più 45 gradi montata troveremo una lama da 210 mm 48 denti l'ho già recensita quindi vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per vedere le prestazioni e le mie impressioni comunque in dotazione troveremo un sacchetto di raccolta per la polvere un utensile per il cambio della lama l'utensile per l'impostazione della battuta due spazzole di ricambio e due batterie alcaline per poter accendere il laser tra l'altro questo collegamento dove posizionato il sacchettino per la raccolta della polvere può essere utilizzato per collegare un aspirapolvere anche se le troncatrici pur essendo collegata al sacchettino oppure ad un aspirapolvere solitamente fanno un bel po di polvere in giro quindi funziona come aspirazione ma non è proprio il massimo queste sono le lame di ricambio specifiche per questo tipo di sega circolare ma adattabili anche ad altre serie circolare infatti il foro centrale che in questo caso da 30 mm può essere un ridotto con un riduttore da 20 e da 16 mm andiamo ancora avanti e troviamo un set di morsetti ad una mano due o quattro pezzi quindi sono due confezioni differenti una contiene due morsetti più grandi l'altra invece contiene quattro morsetti e costeranno 9 euro e 99 alla confezione io ho già recensito questi morsetti vi spiego rapidamente possono essere utilizzati sia per stringere come in questa immagine che per allargare come in quest'altra immagine nel caso in cui si debba scollare qualcosa ottenere premuto per esempio contro una superficie sono dei borsetti che funzionano a livello hobbistico per tenere qualcosa da incollare mantenere fermo sicuramente non hanno una grandissima forza quindi una pressione molto elevata e soprattutto non hanno una qualità costruttiva molto robusta quindi se forzate esagerando pochettino c'è il rischio di danneggiarli comunque tutto sommato ci ho fatto tanti lavori e se non avete esigenze particolari funzionano bene hanno un sistema di apertura tramite un tastino posto sulla sommità e invece di chiusura tramite la classica levetta le misure dei vari morsetti sono da 15 cm 10 cm modelli più piccole da 30 cm i modelli più grandi questo invece è un faro led d'energia solare con sensore di movimento che con l'applicazione del coupon lidl plus costerà 7 euro e 99 anziché 9 euro e 99 quindi 20 per cento di sconto a un pannellino sulla parte superiore che si occupa di ricaricare le batterie e poi un sensore di movimento è anche crepuscolare che permette l'attivazione al nostro passaggio solo quando c'è buio esistono le due versioni una con il pannello separato che ci permette di posizionare per esempio il faretto in una zona in ombra il pannello rivolto verso il sole oppure questo col pannellino reclinabile che ci dà la possibilità di orientarlo in base alle nostre esigente ma comunque posizionato nello stesso punto del faretto perché parte integrante queste invece sono un set di caccia vite costo di 9 euro e 99 all'interno troviamo alcuni cacciaviti classici sia con il taglio a stella che in taglio piatto poi dei cacciaviti più sottili praticamente tipo questo con la parte superiore che rimane ferma ci permette di utilizzarlo in questo modo oppure appoggiato sul palmo della mano e poi un cacciavite particolare che ha l'innesto esagonale come questo quindi possiamo alloggiare all'interno diversi tipi di inserti che vengono date in dotazione e trasformarlo in un cacciavite che abbia tanti tipi di intaglio questi invece sono gli accessori per la levigatrice a penna multifunzione sia parkside che di altre marche costerà 17 euro e 99 all'interno troveremo 276 pezzi per potere forare potere levigare sia sul metallo che sul legno praticare delle fresature diversi tipi di lavori praticamente tutto quello che si può fare con le penne levigatrici da questa parte invece troviamo un set di taglierini composto da 33 pezzi ora è classico taglierino che si permette di ritrarre la lama e farla sporgere solo di un poco quindi adatta per esempio per parquet tutti gli altri tipi di lavori dove non è necessario una lama molto lunga gli altri due invece sono i classici cutter quindi taglierini con la lama lunga che si può anche spezzare e per ogni tipo di cutter troveremo anche 10 lame di ricambio al costo di 3 ore e 49 l'intero set nella pagina successiva sempre dedicata al fai da te invece troveremo delle valigette queste sono delle novità almeno in italia sono tre misure differenti più un carrellino per il trasporto la misura più grande quindi la xl costerà 49 euro la valigetta invece misura l costerà 39 euro e 99 infine la misura m costerà 29 euro e 99 quindi 10 euro e differenza in base alla misura le caratteristiche sono praticamente le stesse quindi possono caricare al massimo 25 kg hanno un vano porta minuteria nella parte superiore che si può anche rimuovere all'interno sono completamente vuote non c'è ne gomma più ma ne scompartimenti la differenza quindi di misura riguarderà solo l'altezza tutte avranno quindi la dimensione di 44,2 x 35,7 x 38,9 in questo caso questa invece 25,3 per quanto riguarda l'altezza e questa 15,1 poi troviamo il carrellino per poterle trasportare che però non ha alcun tipo di impugnatura quindi non possiamo trasportarlo come un trolley dobbiamo spingere le valigette dalla parte superiore e lo stesso carrello può trasportare fino a 100 kg e costerà 39 euro e 99 e anche due ruote bloccabili quindi dotate di freno andiamo ancora avanti e per quanto riguarda le automobili dal 4 gennaio quindi da giovedì troveremo un set di coprisedili per auto composto da 14 pezzi quindi anche poggia testa in due colorazioni differenti grigio e nero oppure solo nero e costerà 19 euro e 99 questo invece un misuratore dello spessore del rivestimento che costerà 12 euro e 99 e in poche parole serve per misurare lo spessore della verniciatura per esempio nella carrozzeria dell'automobile per verificare che sia omogeneo eccetera e sul display comparirà quindi lo spessore tre modalità di funzionamento tra cui una in automatico e due unità di misura a scelta questo invece è un telo coprimoto che anche la finestrella per poter vedere la targa costare 17 euro e 99 in tessuto resistente gli strappi e anche una custodia inclusa impermeabile resistente al raggio v e tra l'altro la finestra potrebbe vedere la targa è obbligatoria perché se la lasciate in un parcheggio pubblico coperta la targa non deve essere occultata sarà disponibile in due misure differenti quindi 200 per 80 per 115 oppure 245 per 80 per cento 45 centimetri questa invece una protezione per parabrezza a costo di 3 euro e 99 si applica l'autovettura incastrando le alette all'interno degli sportelli avrà una misurazione di 118 centimetri sulla parte più alta 119 centimetri con le alette aperte 145 centimetri la parte più bassa alta 99 centimetri sarà possibile collocarla senza graffi grazie al rivestimento interno in gomma piuma questi invece sono dei set di lampadine di ricambio per auto ma anche moto ovviamente a costo di 5 euro e 99 non sono lampade a led però hanno sia la classica luce calda della luce fredda grazie a questa colorazione azzurrina che rende la luce un pochettino più fredda quindi più chiara da questa parte invece troviamo la chiave dinamometrica con coppia regolabile fra 80 e 210 newton metro in dotazione saranno presenti anche tre bussele con la misura 17 19 e 21 millimetri e questa è una prolunga che ci permette di distanziarci nel caso in cui per esempio per svitare dei dati da una macchina che abbia dei parapanghi molto sporgenti o altre circostanze ci permette appunto di lavorare un pochettino più distanziati come coppia è adatta dato che va da 80 a 210 newton metro praticamente per tutte le auto vetture perché è ideale stringere i dati delle ruote su per giù attorno al 100 110 newton metro anche questa l'ho recensita quindi vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione questo invece è un tester per batterie e alternatore abbiamo dei led sulla parte superiore che ci indicano appunto le condizioni sia della batteria per dell'alternatore nella parte posteriore troviamo anche un magnete per posizionarlo per esempio sulla carrosseria dell'automobile poterlo consultare a mani libere e poi ci sono i due morsetti isolati per evitare che si verificano corti circuiti questa invece è una chiave per poter smontare il filtro dell'olio quindi si inserisce il filtro dell'olio all'interno di questa cinghia si avvita questo pomello in modo da stringerlo e poi ruotandolo si potrà rimuovere e costerà 4 euro e 99 il filtro 4 euro e 99 il tester questi invece sono i cavi per l'avviamento dell'automobile nel caso in cui la batteria sia scarica sono lunghi tre metri vanno bene per autovetture a benzina fino al massimo 2500 centimetri cubici adatti anche veicoli con il sistema start e stop le batterie con tensione sia 12 e 24 volte a costo di 14 euro e 99 questo invece è un compressore per confiaggio pneumatici a costo di 19 euro e 99 e della osram quindi dovrebbe essere di buona qualità e il prezzo sembra invitante avrà un display analogico quindi dotato di lancetta cavo di alimentazione lungo 2 metri e 90 quindi possiamo raggiungere anche le ruote posteriori a muoverci agevolmente e sarà completo di tre adattatori per poter gonfiare palloni materastini eccetera e viene alimentata tramite l'accendisigari dell'automobile però mi raccomando tenete il motore acceso durante l'utilizzo perché come vedete tempo di gonfiaggio per ogni ruota quattro minuti e mezzo quindi se l'utilizzate per tutte e quattro le ruote e soprattutto se la batteria non è in ottimo stato di salute rischiate di gonfiare le ruote e rimanere a piedi quindi si utilizza con il motore acceso e questo video finisce qua ma nell'altro canale come vi dicevo trovate il video con tutti gli articoli e anche quelli inediti in anteprima quindi andate a dare un'occhiata ragazzi detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo a farvi gli auguri di buon anno invitarvi ad iscrivervi a questo canale oltre che all'altro mettere mi piace cliccare sulla campanella ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto